Ciò che si sa di dover compiere Ho letto che da un punto di vista psicopatologico la bulia è l'incapacità di passare all'atto di compiere ciò che si sa di dover compiere in soggetti apatici, passivi, intellettualmente inerti. Commento La bulia non è una psicopatologia ma il periodo evolutivo che la bulico deve attraversare per scoprirsi capace di passare all'atto.